Buonasera, ciao di nuovo Fernando, buonasera, volevo domandare una parola, salvami, ma che significa l'angippataio, quando uno trova l'angippataio? L'angippataio significa che c'è il formale che ci passa l'acqua, alla farma, si mettono una trova di traversa e si mettono due frasche di niente per montare l'acqua che va all'adrillato. Quindi si crea un ostacolo per fare via l'acqua, per fare via l'acqua, per fare da qua non traverso. Però l'angippataio in dialetto si dice pure tante altre cose, no? Si, c'è tante cose che si può dire. Per esempio tu, certi volte, che ne so, devi fare una macchina. Trovo io per la vita e hai trovato l'angippataio. Hai trovato l'angippataio, è vero Vettacolo. E' un'altra cosa, se mentre cammino, certo, ti trovo un campone, trovo niente un ruolo sotto di una tortaio, una ciappa. Se non c'è un bel, te lo devi pure fare, certo. Qua le chiamano, hai trovato l'angippataio. Hai trovato l'angippataio? Qua la stessa cosa. Un inceppo? Un inceppo? Un inceppo che sta facendo andare, non si vede. Si ostruisce il passaggio. Si ostruisce il passaggio. Si ostruisce il passaggio e si chiama ngeppataio. Ngeppataio. Oppure, che ne so, devi fare una macchina. Per esempio, che ne so, devi fare il comune. Alla comune non riesce a comune perché ha trovato un ngeppataio nella prato. Anche quello, si. Quello, alla comune, se vuoi fare provare la casa, ha trovato un ngeppataio. Non è venuto per l'alimento. Non è venuto per l'alimento. Allora, va, possiamo dire che ha trovato un ngeppataio. Ciao, ciao, buon tempo. Ciao, buon tempo. Dimi una cosa, buon tempo. Dimmi tutto. Ma domani vorrei scegliere con il tempo. Guarda, io non ho tempo ma tezza. Vuoi fare buon tempo? Speriamo di sì. Speriamo di sì. Ma ma tezza che significa? Significa che questo per ducitezza, fanno quello a voi. Perché ora che significa? Fa una buttagna. Eh, una buttagna. Domenico. Sintolo quale pura signore. E ah. Va buon? Domenico. Ciao domenico. Ciao a tutti e ciao ciao. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao! Grazie.